Perché il Vangelo di questa domenica, perché ci prepariamo a vivere questa domenica, è straordinario, lo ascoltiamo. In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e disse loro Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di essi E i loro capi li opprimono Tra voi però non è così Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore E chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti Anche il figlio dell'uomo infatti è venuto per farsi servire Non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per morti Bene brava gente, è una bellissima pagina di Gesù che forma i suoi discepoli Di Gesù che in questo momento è padre dei suoi discepoli Di Gesù che in questo momento è l'educatore dei suoi discepoli Di Gesù che in questo momento è come se dicesse ai discepoli Un po' come la mamma e il papà e i figli Non fate così Non comportatevi così E questo passo viene dopo una cantonata che avevano preso i discepoli Vi ricordate i figli del tuono? Giacomo e Giovanni Che gli dicono a Gesù Giacomo e Gesù ma noi vogliamo stare uno alla tua destra e uno alla tua sinistra Oppure vi ricordate quella scena che a un certo punto Gesù gli dice Ma di che stavate parlando lungo la strada? E stavano parlando di chi era il più grande tra di loro Bene, Gesù in questo momento Vedete, cari papà, lo dico ai papà, alle mamme Non fa una scartata Come si può dire? Lo dico ad Emilia Emilia, quando i papà si incagnano a casa Come si dice? Una scenata, ecco Una scenata Una scenata, no? Una scenata Ma con tanta pazienza Con tanta pazienza Dice, venite qua Li chiamò a sé, bellissimo Vedete, c'è un principio di grande educazione Lo diciamo anche noi sacerdoti Cioè è inutile stare lì a fare senate con le persone Ma si chiamano a sé E' bellissimo questo chiamare a sé E quando un po' Il papà mi diceva Vieni un po' qua Enzo, dai E parliamo, no? Ecco, Gesù fa così con noi Dice ai discepoli Venite un momento qua Li chiamò a sé E' bellissimo Ebbene, Gesù stasera Si sta chiamando Brava gente Come se dicesse Brava gente Venite qua Venite qui Dice, voi sapete Vedete, no? E' bellissimo Gesù prende la vita Prende l'orizzonte davanti a lui E commenta così I principi Che ispirano il suo agire E che dovrebbero ispirare L'agire dei discepoli Di ciascuno di noi Dice vedete Voi vedete A volte Questi tartassano A volte Questi vi massacrano A volte Non si comportano bene A volte sono prepotenti Dice però Tra voi La traduzione esatta Qua dice Non sia così Ma la traduzione Dicono gli esegeti Sia Ravasi Che Cardinale Martini Sarebbe Non è così Tra voi E' bellissimo Non deve essere Non deve essere così Tra voi Non è un auspicio E' quasi un presente Dice non deve essere così Dice ma tra voi Chi vuol diventare grande Si faccia servo Bellissimo Ma non è vero Che i veri grandi Sono coloro che servono Non è così Brava gente E' così E' così Siamo questa parola Sì o no La scriviamo Servitore Viene dal greco Adesso dico una parolaccia Che significa Terapon La traduzione di servo E' terapon E' bellissima Il terapon Chi è? Il terapista E' colui che guarisce Quindi servitore E' guarito Da quello che fa E guarisce Per quello che fa E' una traduzione Io la trovo davvero ricca Perché noi pensiamo Servo Devi essere schiavo No Devi essere sottomesso No Devi Annichilirti No Cioè Guarisci Tu stesso E guarisci L'altro Ed è vera Questa accezione E' una profonda Guarigione Una guarigione Quindi di se stessi E dell'altro Allora io vi dico Stasera Lo dico a me stesso Enzo Vuoi guarire? Brava gente Volete guarire? Si o no? Voglio vedere dei si però Eh? Voglio vedere dei si Sì o no? Sì o no? Eh? Eh? E' una cosa bellissima Questa Qua attraversiamo la strada Siamo attenti Brava gente Eccoci qui E allora Guarire Significa Eh? Vivere una vita Fatta di servizio Io ricordo Vi faccio una confidenza Eh? Quando è che si può dire Che la nostra vita Guarisce Ricordo che uno Che aveva un incarico Importante Eh? Improvvisamente Fu Tradito Fu Totto di mezzo E a me mi distacque molto Proprio tanto Allora andai Eh? Andai a trovare E disse Io voglio dirti Che ti stimo molto E lui mi rispose Grazie Dice Però sappi Enzo Che quando ci viene chiesto Un servizio Lo facciamo Quando non ci viene chiesto Non lo facciamo Eh? Che grande lezione Di umanità Eh? Chiedo anche per me Questa grande grazia La chiedo anche per voi Brava gente Eh? E poi Gesù Non solo fa il paragone No? Vedete i capi No? Ma tra voi non è così No? Cioè Ci invita A vivere Eh? La vita come servizio Ma anche il figlio dell'uomo Infatti Non è venuto Per farsi servire Anche dice Anche io Non sono venuto Per farmi servire da voi No? Ma Per dare la mia vita Per voi E un po' Diciamo Se volete Gesù parte da lontano Dall'atteggiamento Dei discepoli Poi va All'atteggiamento Dei uomini E poi dice Ecco Guardate la mia vita E non c'è testimonianza Più bella Che vale più di molte Parole Sapete Francesco Come vive questa pagina San Francesco Perché io penso Che voi volete chiedere A San Francesco Come vive questa pagina Di Vangelo Ebbene Francesco dice Siate Come madri E con fiducia L'uno Manifesti all'altro La propria necessità Perché l'altro Gli trova Le cose Che gli sono necessarie E gliele dia E ciascuno Ami e nutra Il suo fratello Come la madre Ama e nutre Il proprio figlio In quelle cose In cui Dio Gli darà la grazia E colui che mangia Non disprezzi Chi non mangia E chi non mangia Non giudichi Colui che mangia Bellissimo Ricordate Papa Francesco Chi sono io per giudicare E poi È evidente Che qui C'è C'è anche Una grande questione Di potere C'è la vita Proprio Che è vissuta O come servizio O come potere Avevo trovato Due belle affermazioni Che condivido Con voi Brava gente Ecco le quali Ho trovato Stasera Siamo un po' fortunati E allora Eccoci qua Eccoci qua Vediamo se ci riesco Uno, due, tre Ci riesco Che dire Ci siamo riusciti Ecco qua Tieni a mia Tieni così Sì Allora Diceva Sofocle Sentite cosa diceva Bellissima Eccolo qua Non si può conoscere Non si può conoscere Veramente La natura Il carattere Di un uomo Fino a che non lo si vede Gestire il potere Bellissimo Eh? È vero È così E poi avevo trovato Anche un'altra Un po' di commento D'Oriana Fallaci Che dice così Il vero potere Non ha bisogno Di tracotanza Barba lunga Vocione che abbaia Il vero potere Ti strozza con i nastri di seta Garbo Intelligenza Ti strozza Nei Vangeli Citando Dio Seguendolo Passo passo Bellissimo Eh? Allora Se noi vogliamo Esercitare un potere Seguiamo passo passo Il Vangelo Eh? Come abbiamo fatto stasera E capiremo Eh? Che il vero potere Il potere Di servire E Noi abbiamo anche qui Abbiamo Abbiamo sbagliato parola No? Noi pensiamo che il potere sia Il potere sugli altri No? Invece è poter far qualcosa Per gli altri E poter essere Veramente uomo Poter essere veramente uomo Questo è il potere Eh? È bellissimo Eh? Poter Fare qualcosa Per gli altri Stupendo A me questa cosa E fa impazzire Brava gente Eh? Bene allora Bene 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 Stasera c'ho L'aiuto Eh? Brava gente E vado ecco qua E vado ecco qua Gli auguri Eccoci qua Così non dimentichiamo Niente E allora Eh? Intanto Domani che festa è? A proposito Che festa è Brava gente Eh? Che festa è? Vediamo se vi ricordate Che festa è? Domani è L'onomastico Di alcune persone Che portano un nome Domani è domenica Eh? Prima di tutto Però c'è una cosa bellissima Che domanda Chiesa festeggia Cosa festeggia domani? Dies domini Giorno del Signore Noi andiamo a messa Vero? Eh? Ci andiamo Facciamo i pigri Eh? E Ma domani È Sant'Ignazio Di Antiochia Brava gente Sant'Ignazio Di Antiochia E allora Stasera Voi sapete Ad Antiochia Cosa è avvenuto? Vi ricordate? Sì o no? Vi ricordate? Cosa è avvenuto? Vediamo un po' Se vedi i commenti Eh? Furono chiamati I discepoli Per la prima volta Eh? Cristiani Cioè Seguaci di Cristo Eh? Quindi noi dobbiamo invocare Eh? Ignazio Sant'Ignazio Di Antiochia Dobbiamo ricordare Questa bellissima città Eh? Eh Domani Vi chiederò qualcosa Su Sant'Ignazio Domani sera Eh? Ci prepariamo? Eh? Chi era Sant'Ignazio Perché furono chiamati Cristiani Eh? È una cosa che ci riguarda Brava gente Eh? Almeno Qualcosa dobbiamo sapere Perché siamo cristiani Perché vogliamo amare Brava gente Perché vogliamo amare Io vi auguro a me A voi Questo Amiamo È la cosa più bella Che possa esserci nella vita Eh? E non c'è tristezza Ok? Andiamo agli auguri Se no facciamo tardi stasera Maria Maria vorrebbe gli auguri Per la figlia Elvira 27 anni E per il fidanzato di Elvira Gerardo Che festeggia l'onomastico Ogni bene Domani mi sa che pure San Gerardo Eh? Non vorrei sbagliarmi allora Giusto? Un grande santo Anche San Gerardo Non mi vorrei sbagliare Perché io Ho puntato su Sant'Ignazio Rossella Domani il nipote Francesco Diventa diacono E vorrebbe gli auguri E una preghiera Dalla brava gente Sicuramente Se non sbaglio Eh? Francesco diventa diacono Francescano Quindi Forte Poi diacono Significa proprio Servo Che è il diacono E colui che serve Eh? E ogni bene Allora tutti voi Poi avevo scritto qui Antonietti Antonietta Ma Man Fragola Eh Ho sbagliato a scrivere Non mi ricordo Brava gente Comunque Antonietta Padrino e madrino Di Casimiro Che domani fa la crescima Eh? Casimiro Ho sbagliato il cognome Credo E comunque La tua madrina Ti fa tanti auguri Eh Maddalena Faccio un augurio Eh Un'abrazione forte Poi Carmela e Graziella Prego per voi Rustico Eh Per ogni bene Mi raccomando Forti Eh Forti Poi Attanasio Maria Attanasio Ogni bene Luisa Minopoli Compleanno Eh È un grazie alla mamma Quindi Ogni bene Ogni bene a tua mamma Eh Forte Poi Rossella Apostolina Eh Di pedio e francesco L'abbiamo detto Rossella Questo qui È il nipote francesco Che diventa Diagono domani Alessandra Alessandra Marino Per il figlio Davide Una preghiera E per i biscottini Eh Grazie Che San Francesco Davvero vi accompagni E saluto anche Le tante 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 persone Che sto incontrando In questi giorni V'abbraccio davvero tutti Buonasera brava gente Buona giornata brava gente Buona domenica Eh Domenica nel cuore Mi raccomando Forti E vi lascio Ecco Guardando la strada La nostra vita È un cammino Domenica nel cuore